Il Poligel Light Pink è un costruttore trifasico color rosa carne chiaro. Grazie alla sua colorazione è adatto a coprire le imperfezioni dell'unghia, lo scalino della tip o a coprire le discronie e macchie in una copertura o un refill. È anche adatto a creare il French muretto in struttura o per creare l'effetto baby boomer. Contenendo particelle acriliche non è molto elastico, infatti è adatto anche a unghie difficili e o onicofagiche. È adatto per coperture o ricostruzioni di qualsiasi lunghezza, anche estreme. Non cola e non è autolivellante. È molto facile da lavorare e da limare. E si lavora con il cleaner trasparente. Catalizza in lampada, in 60 secondi in lampada LED o Diodi e in 2 minuti in lampada UV.